L'Umana Gente Voci dall'Infinito attraverso Wanda, 23 maggio 1998, a cura di Vubbi. I Fratelli Cosmici, salve! Questo saluto ci porta indietro nel tempo. Ave Maria, Madre di Dio, Tu simbolicamente rappresenti la Madre di tutta l'umanità. Tu sei parte della luce cosmica. Perché poi solo Madre dell'umanità, se tu sei una parte integrante della luce cosmica? Tu sei la Madre di tutta la vita che vive nel cosmo. L'Umana Gente, dopo le varie peripezie per cui i suoi progenitori si sono sdoppiati, creando così la dualità dell'essere, aveva bisogno della raffigurazione della famiglia. Padre, Madre, Figlio Per questa ragione sei scesa sulla Terra e hai interpretato il ruolo di Madre. Una Madre nel vero senso della parola, che ci protegge con il suo manto. Sorella, affrontiamo le cose nel modo giusto, collocando ognuno al proprio posto. Oggi vi parliamo della Madre. È molto limitato il concetto che avete di lei. Così ti diciamo. La Madre è luce cosmica, è l'energia che fa da tradunion da congiungimento tra il percorso evolutivo e la luce cosmica. Se vuoi galoppare con la tua fantasia, pensa a lei come ad un'alba prima del sorgere del vostro sole, a quel chiarore diffuso che precede l'esplosione dei raggi del sole o al tramonto, quando cala dinanzi ai vostri occhi. Unendo l'alba al tramonto avrete un'immagine della Madre. Il suo ruolo è quello della forza d'amore che si trova al confine tra l'evoluzione e il nucleo centrale o Dio, come voi nella vostra limitatezza lo definite. La sua energia, sottile e leggera, svolge il ruolo di congiunzione tra il cosmo in evoluzione e il suo creatore e ideatore di tutte le vite o vibrazioni per mantenere l'eterno equilibrio. La Madre fa parte della luce cosmica ed è l'equilibratrice di tale forza. Ti abbiamo dato solo una piccola indicazione, diciamo limitata, del microcosmo, ma se tu vuoi lo puoi rapportare al macrocosmo. Sorella, come immagini la potenza della luce? Bada, abbiamo parlato di potenza, forza e luce. Pensa ora alla Madre come amore e gentilezza, che completa tutto. Non pensare all'arraggio amore che voi chiamate figlio, anche il figlio è luce cosmica. Il nucleo centrale, pur scisso in tre parti, potenza, amore e sapienza, è un'unica forza, la forza della luce cosmica che nella perfezione tiene legato tutto il movimento per un perfetto equilibrio. La Madre ne fa parte, è la forza equilibratrice nella vita pulsante creata dal movimento per integrarsi nella perfezione. Il suo è un ruolo molto importante. Prima di giungere alla conclusione finale, cioè prima di integrarci nel tutto, dobbiamo essere accompagnati da lei per aprire la porta che conduce all'infinito. Per oggi, cara sorella, finiamo qui, augurandoci di averti fatto capire l'importanza del ruolo della Madre e se il concetto non è stato chiaro, ritorneremo su questo tema finora mai sfiorato. E' un argomento importante e grande. E' come se volessimo spiegarti com'è Dio, cioè la forza cosmica. Come potremmo? Come potreste capire la sua immensa grandezza? Come può una mente specialmente umana comprendere tutto ciò? E' proprio impossibile se ci si limita la vostra mente umana a come avete pensato finora e a come avete pregato e invocato Dio considerandolo al vostro servizio per i bisogni umani senza mai pensare che è parte di voi. Quanto del vostro tempo vi occorrerà per capire ogni cosa? Come rimarrete sconcertati quando i vostri orizzonti si apriranno? Tutto quanto è solo nella mente cosmica che già conosce il vostro percorso nell'infinito cammino di resurrezione. Fermiamoci, cara sorella, perché l'argomento è così vasto che ci vorrebbe troppa carta per descriverlo. Ora, unitamente a tutte le forze che si impegnano per aprire la vostra mente, salutiamo te e anche i tuoi fratelli umani. Salve dai fratelli cosmici. Salve dai fratelli